ciao amici con l'arrivo di settembre riaprono le scuole i nostri bambini ragazzi tornano sui banchi baby squaletto non ne vuole proprio sapere come lo capisco anche per me era difficile rientro ma oggi abbiamo un trucchetto quasi magico per aiutare i nostri figli a tornare a scuola con la giusta carica di energia sono le vitamine se volete sapere quali sono e come usarle mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video secondo una recente ricerca degli esperti del bambin gesù di roma sono sei le vitamine essenziali per bambini e ragazzi vitamina a vitamina b vitamina c vitamina d vitamina e vitamina k ed ecco dove si trovano in natura vitamina a serve a sostenere la vita si trova nei cibi di colore giallo e arancio come albicocche pesche carote peperoni arance vitamina b aiuta lo sviluppo psichico e motorio si trova nelle verdure a foglia verde nel pesce nei piselli vitamina c il potere antiossidante protegge i vasi sanguini e le articolazioni e il sistema immunitario la troviamo negli agrumi kiwi fragole pomodori spinaci broccoli vitamina d aiuta a sviluppare e rafforzare le ossa si trova nel pesce e nei semi germogliati vitamina e anche la vitamina e aiuta il sistema immunitario e anche la pelle si trova nei cereali integrali nella frutta a guscio nei ceci nella verdura come gli spinaci vitamina k assicura il corretto flusso di sangue e la salute del sistema circolatorio si trova in verdure a foglia verde carote patate legumi cereali integrali e come faccio a darle tutte a baby squaletto la soluzione migliore per assumere tutte le vitamine è una dieta varia e completa con proteine legumi verdura e frutta di tutti i colori la regola d'oro con i ragazzi è questa vale l'esempio in casa e quello che trovano o meno nella dispensa per fare ai vostri figli una merenda sana potete guardare questo video simpatico e iscrivervi al canale con un click così è facile e attivate tutte le notifiche per seguire ogni nuovo video che potrebbe sempre esservi utile mangia sano e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao